La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva il nuovo fratellino. Ogni tanto vengono sui tedeschi e io non so perché sono venuti fino a qui e non sono rimasti a casa loro con i loro bambini. Voi contadini, avete la testa dura. E poi ci sono i ribelli che li fanno la guerra perché dicono che se ne devono andare. Ecco una cosa che ho capito, che molti vogliono ammazzare qualcun altro, ma non capisco perché. Sai il Martino? Vai, 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 vai! Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere.